La serie di dosimetri SV104 è idonea alla misura dei livelli di rumore durante il lavoro in conformità a norme quali ISO 9612, OSHA, MSHA e ACGIH. Un microfono MEMS brevettato con garanzia a vita è resistente agli urti meccanici accidentali e persino alle cadute. Un'app per smartphone consente di visualizzare un'anteprima dei risultati correnti e emette anche un allarme quando vengono superati i limiti di rumore preselezionati. Per le misure in zone pericolose è possibile scegliere la versione a sicurezza intrinseca con certificazione QPS, ATEX e IECAX. I dosimetri SVANTEC possono essere dotati di analisi a un'ottava e un terzo di ottava nonché della funzione di registrazione audio.